segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora dol buongiorno a giorgio calavale storico università roma 3 e naturalmente rampelli scheline l'ha tirata in ballo proprio personalmente io penso che sia imbarazzante avere come leader del principale partito d'opposizione che in qualche maniera ha assunto l'eredità di quello che fu il partito di berlinguer è imbarazzante la pochezza di queste considerazioni è imbarazzante la falsità delle ricostruzioni noi ad accadenza ci siamo sempre stati sarebbe gravissimo non continuare a farlo e lo faremo perché lì intanto la notizia principale è che sono stati uccisi come bestie tre ragazzi di 19 20 e 18 anni due da un commando comunista che doveva addestrarsi per fare il proprio ingresso nelle brigate rosse nota associazione benemerita evidentemente di compagni che sbagliano così si diceva all'epoca da sinistra e quindi questa è la principale accompagnata dal fatto che comunque in questi 46 anni non c'è stata un'indagine efficace non c'è stata l'individuazione di colpevoli nonostante la mitraglietta con cui è stata fatta mattanza di questi giovani fosse la stessa del rapimento di moro e quindi dell'uccisione della sua scorta in via fani quindi insomma c'erano tanti elementi se si fosse se ci fosse stata la volontà e questo vale guardi per i ragazzi di accalarenzia per gli altri ragazzi di destra tanti troppi che sono stati uccisi negli anni settanta e vale anche per i ragazzi di sinistra tant'è che io ho proposto una commissione parlamentare di inchiesta non per riaprire le indagini questo lo può decidere se ci sono elementi di novità la magistratura ma per almeno arrivare alla verità storica chi ha dato queste armi da guerra chili di tritolo mitragliette chi la chi le ha date ragazzi di 16 17 18 anni questo lo possiamo accertare questa sorta di commissione indirizzata verso la strategia della tensione noi su questo possiamo e dobbiamo fare luce perché l'unica cosa che possiamo fare per ristorare le famiglie poi mi permetta per fatto personale fratelli d'italia e i partiti parlamentari precedenti di destra a fratelli d'italia non hanno la gestione della sede d'accalarenzia da almeno 30 anni i titolari sono organizzazioni extra parlamentari quindi noi quando comunque decidendo di non avere niente a che fare perché da lì siamo andati via con la manifestazione serale dei saluti romani non ci siamo più stati da 27 anni non da quando siamo al governo sono 27 anni che coloro i quali avrebbero poi fondato fratelli d'italia avevano deciso di non avere niente a che fare con quella manifestazione abbiamo deciso però di andare la mattina e di deporre dei cuscini di fiori per ricordare questi ragazzi e quando comunque ci troviamo lì ci troviamo i padroni di casa quindi padroni di casa che si sono alternati nel corso degli anni da un'organizzazione extra parlamentare all'altra possono essere comparsi nelle immagini ma non ci hanno mai accompagnato da nessuna parte perché la nostra deposizione di fiori è stata fatta sempre esclusivamente dai ragazzi di gioventù nazionale di azione giovani da fratelli d'italia dalleanza nazionale che sono un'altra cosa che hanno fatto scelte chiarissime di discontinuità rispetto al fascismo al neofascismo che sono state bugia altra bugia della chline perfettamente confermate da giorgio meloni in tante tante circostanze l'ultima delle quali è quella dell'assalto fatto da forza nuova alla sede della cgl dove siamo andati addirittura di perso addirittura ci mancherebbe altro atto dovuto di persona alla sede della cgl a presentare le nostre solidarietà la nostra amicizia a landini e ai sindacalisti della cgl questa è la storia faraone perché è stata fatta che le nostre solidarietà la nostra amicizia a la cgl